Allora ragazzi, primo tempo che sta finendo, bravi 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 tutti, dal primo all'ultimo, dall'allenatore che ho sempre criticato e detestato, da Perisic che ho sempre odiato, brava João Mario che ho sempre schernito, bravi bravi tutti, Cardi se continua così diventa il giocatore più forte della Serie A. Finisce così il primo tempo, bravissimi tutti, bravi, sono orgoglioso di questa squadra, una curva che ha cantato neanche se stessimo facendo la finale di Coppa Campioni, uno stadio che ha accompagnato le azioni dell'Inter e le folate offensive della squadra, bravi tutti, bravi tutti, primo tempo quasi perfetto, è mancato solo il gol, è mancato solo il gol, bravi bravi. Tutti, non devo aggiungere altro, orgoglioso di voi, il Napoli non ci ha capito niente, dobbiamo essere più malvagi, più cattivi, più spietati, più coraggiosi sotto porta, ma bravi bravi tutti, Ivar Iperic, Asamoah, tutti, tutti, tutti bravi. Icardi ragazzi se continua così diventa il giocatore, non l'attaccante, l'attaccante già lo è, più forte della Serie A. Ciao.